Torta di zucca con mascarpone La torta di zucca con mascarpone è una ricetta autunnale perfetta per dare un tocco di dolcezza a qualsiasi menu. La combinazione dei sapori della zucca con quelli delicati del mascarpone e del cioccolato, darà vita a una torta dal gusto unico che piace a grandi e piccini. Per preparare questa delizia, servono pochi ingredienti semplici ma saporiti, per un risultato finale gustoso e invitante. 200 g di zucca, 100 g di farina, 100 g di zucchero, 50 g di burro, un uovo, mezza bustina di lievito, 100 g di mascarpone, 50 g di cioccolato fondente. Inizia preparando la torta. Metti in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Aggiungi poi il burro fuso e l'uovo sbattuto. Amalgama bene tutti gli ingredienti e poi incorpora anche la zucca. Mescola fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Imburra una teglia e versa il composto. Inforna a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta pronta, lascia raffreddare la torta. Nel frattempo prepara la crema al mascarpone. In una ciotola, lavora con una frusta il mascarpone con lo zucchero a velo e il cioccolato tritato. Fai amalgamare bene gli ingredienti e poi versa la crema ottenuta sulla torta. Decora con una spolverata di zucchero a velo e servi la torta di zucca con mascarpone ai tuoi commensali. Buon appetito! Buon appetito!